La vicenda di Vermicino è una storia che fa male per moltissimi motivi. Il primo naturalmente è la morte tragica di un bambino di sei anni precipitato in un pozzo per 30 metri e poi ancora più giù durante i tentativi di salvataggio, ma fa male anche ripensando a quelle drammatiche ore a molti altri aspetti. Innanzitutto la gestione dell'emergenza, rivedere oggi le immagini a ripensare a quello che è successo, si vede un'impreparazione che lascia sgomenti. È stato calcolato che migliaia di persone poterono avvicinarsi a quel pozzo artesiano nel quale era precipitato Alfredino, non c'erano transenne, non c'era una gestione di quei momenti davvero organizzati, addirittura comparvero dei venditori ambulanti e non consola sapere che però da quell'esperienza così tragica nacque poi un progetto di organizzazione dell'emergenza che oggi conosciamo sotto il nome di protezione civile. Poi fa male anche perché entrò nelle case degli italiani con una diretta interminabile di 18 ore perché si pensava inizialmente di poter raccontare attraverso le telecamere una storia a un lieto fine, così avevano detto i primi soccorrettori, lo salveremo. Invece fu un'agonia che entrò nelle case di milioni e milioni di italiani in quella che viene definita come la prima forse testimonianza della tv del dolore. Trent'anni dopo comunque la si guardi è una ferita che ancora fa male a tutto il paese.